Musica Benvenuti a noi chiesa, al nostro viaggio di approfondimento alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della diocesi di Chiavari. Iniziamo la puntata di questa settimana da Sestri Levante, in particolare dalla parrocchia di Sant'Antonio che ha celebrato la solennità del santo titolare con un motivo particolare di festa, la missione al cammino verso il diaconato permanente di Giovanni Ranieri, un catechista della parrocchia. Vediamo insieme il nostro servizio. La comunità di Sant'Antonio a Sestri Levante ha celebrato la festa del titolare. Nella messa solenne del mattino, Monsignor Alberto Tanasini ha proposto una riflessione formulando un invito a porre per sé la domanda su chi sia realmente Gesù nella propria vita. Sant'Antonio ha detto risponde a questa domanda con la sua esistenza. Conoscere Gesù è possibile attraverso un incontro personale. Avete sviluppato questo tipo di riflessione, Don Luciano, anche nel corso del tempo di preparazione? Abbiamo impostato proprio così il senso della festa già nell'annuncio che abbiamo fatto all'inizio del mese nel nostro giornalino parrocchiale, dove abbiamo proprio posto in prima pagina la domanda al senso della festa. Soprattutto abbiamo detto che il senso della festa non è aggiungere all'ordinario semplicemente qualche fatto esteriore, qualche segno esteriore, ma la festa nasce da dentro, da quando si trova il significato della vita. Per una comunità parrocchiale fare festa vuol dire proprio trovare nella figura del santo che celebriamo proprio quel modello che risponde proprio a questa domanda. Ecco, cosa devo fare per essere felice? Il santo rappresenta per noi la risposta a questa domanda e così lo abbiamo proposto. Quest'anno, sottolineando particolarmente in Sant'Antonio le opere di misericordia, l'attuazione della vita come esperienza di misericordia ricevuta e donata. E avete attuato anche concretamente un gesto di misericordia nella raccolta di generi alimentari per la distribuzione effettuata dalla Caritas cittadina. C'è stato proprio quindi la possibilità di incarnare questo auspicio? È un gesto che facciamo abitualmente dagli anni in occasione della festa, offrire l'occasione di una raccolta di generi alimentari che poi vengono distribuite attraverso gli strumenti delle Caritas parrocchiali ai bisognosi. Come avete preparato la liturgia di quest'oggi? Su cosa avete voluto puntare nell'elaborare i canti per questa celebrazione? È il compimento dell'anno pastorale, quindi abbiamo cercato di dare un senso nell'anno della misericordia. L'impegno è tanto perché le cose da fare poi si accavallano. Abbiamo fatto lunedì un concerto meditazione, oggi la celebrazione con il Vescovo e stasera il Vespro. Quindi chiuderemo davvero con questo canto che abbiamo fatto anche oggi, che è Benedicamus Domino di Kraft, in cui davvero vogliamo ringraziare il Signore, benedire il Signore per quello che ci ha dato di poter fare in questo anno. Alleluia! 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 Benedicamus Domino! Che tipo di comunità è questa? C'è una risposta anche all'attività di animazione liturgica da parte dei laici? Sì, un pochettino di difficoltà rispetto al fatto che è una comunità centrale dove c'è molto via vai, turisti, persone da fuori. Però devo dire che la risposta è sempre buona e c'è sempre un riscontro anche di apprezzamento nei confronti del lavoro che si fa in tutte le domeniche e in questi momenti speciali e particolari anche con la presenza del coro che dà, come dice sempre Don Luciano, una solennità e un senso un pochettino più di comunità. Il coro diventa voce per tutta la comunità, davvero questo vuole essere, non è mai esibizionismo. Nella festa del Santo Patrono la comunità di Sant'Antonio a Sestri Levante ha avuto la gioia di accogliere Giovanni fra i candidati al diaconato permanente. È un rito piuttosto semplice quello della missione all'Ordine Sacro ma inizia con la domanda alla moglie di Giovanni a Paola. Come hai accolto questo auspicio da parte del tuo sposo, questo suo desiderio, la vocazione che è maturata in lui? È un cammino che ci accompagna da tutti gli anni del nostro matrimonio, dai quattro anni da cui siamo sposati e che ha comunque accompagnato la fisionomia della nostra famiglia, per cui è stato accolto con gioia sapere la data che l'inizio di un cammino anche ufficiale ci mette veramente in condizioni di crescere non solo lui personalmente ma anche noi come famiglia insieme con lui. Alla sposa viene chiesto una sorta di consenso all'inizio di questo cammino. Come ti sei accostata a questo percorso che anche tu in qualche modo devi intraprendere? Beh, il fatto di essere comunque stata interpellata in quanto moglie mi dice che è un cammino che non è solo suo che non diventa un qualcosa di staccato e di lontano dal nostro matrimonio ma che è un cammino che si interseca e che è chiamato non solo a convivere ma proprio a condividere anche nella nostra realtà familiare con i nostri bambini, con il servizio che facciamo nella nostra parrocchia e il cammino della vita di tutti i giorni con un criterio di vita nuovo che è quello del servizio. Voi avete due bambini piccoli, Giacomo ed Emanuele, se non sbaglio forse non capiscono ancora tanto però come potresti spiegarglielo da mamma? Beh, con loro è ancora una bella impresa perché Emanuele ha tre anni e Giacomo ne ha uno però è il modo di dire che l'amico Gesù accompagna la nostra famiglia in un modo nuovo, col servizio nuovo di papà perché ancora di più siamo chiamati a diventare amici suoi credo che il criterio dell'amicizia per ora possa essere forse il modo più semplice e più vero con cui poterli far accostare a questa scelta che è inspiegabile ancora ai loro occhi. Giovanni, il Vescovo nella sua omelia ha proposto una riflessione anche rispetto alla vita di Sant'Antonio che ha rinnegato se stesso per aprirsi al servizio agli altri in questo ha visto proprio il riflesso del senso del diaconato come ti stai accostando all'inizio di questo tuo cammino? Direi vero è un cammino che mi è, come dire, non tanto vicino ma è lontano degli anni perché quando sono arrivato qui in Liguria, quando ho conosciuto Paolo ho detto che c'era un discernimento ed è stata, come dire, un po' come Sant'Antonio che ha preso, ha cambiato un po' il suo posto dove viveva e anche il suo modo di vedere le cose e un po' mi dispecchio, un po' anche nel suo modo che ha lasciato tutto per il Signore come è capitato a me e sapere che c'è una sposa che condivide questo cammino è una gioia grande perché non sono solo ma è una famiglia diaconale quindi è di percorrere i passi dei Santi al servizio della Chiesa con Cristo. Tu sei già catechista di questa comunità, insieme a tua moglie svolgete un servizio come arricchirà questo tuo servizio, il cammino che intraprendi? Un cammino che comunque è un vivere il cristianesimo giorno per giorno nei vari passaggi perché non subito si diventa diaconi, ci sono dei passaggi e questo, come dire, saranno loro ad arricchire me, i bambini perché sono loro che, come diceva il Vescovo, Gesù si manifesta da bambino a San Antonio e anche loro danno tanto a me e a Paola e tanto anche noi riusciamo a dare perché è un cammino insieme con questo Gesù e con Gesù. Dicevamo che hai sei papà di due bambini piccoli e forse il compito di spiegare a volte spetta un po' di più alla mamma, no? Ma tu come ti approcci a loro in questo momento di rinnovata gioia per la vostra famiglia? Come dire, loro sanno che Gesù accoglie i bambini, no? E essere ancora più vicini a Gesù è avere Gesù che ci fa d'amico loro lo conoscono già come amico e è un amico ancora più speciale perché ha chiesto da papà un compito da manifestare nella Chiesa e con il loro aiuto anche. Ora apriamo un'ampia pagina dedicata alle feste patronali di Chiavari e di Rapallo. È iniziato infatti il tempo di preparazione alle solennità patronali di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. In particolare per quanto riguarda Chiavari, a partire dalla giornata di sabato ci sarà il tempo di preparazione alla festa in onore di Nostra Signora dell'Orto con la Santa Messa delle 18 celebrata ogni sera da un canonico della Cattedrale e a partire dalle 21 ogni sera la liturgia mariana animata da un movimento, da un gruppo, da un'associazione del nostro territorio. Sentiamo in merito ai festeggiamenti in onore di Nostra Signora dell'Orto il prevosto della Cattedrale, Don Gian Lorenzo Borzini che ci illustra anche i lavori che stanno iniziando proprio in questi giorni di sistemazione del tetto del Pronao della Cattedrale Chiavarese. Vediamo. Siamo ormai vicini al periodo più bello e più vivo dei festeggiamenti patronali per la Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La novena in Cattedrale che cosa prevede? Allora, tu hai detto più bello e più vivo. Bisogna dare un po' di carne a questo più bello e più vivo perché che cosa lo rende bello e vivo è la possibilità di un cambiamento in bene, di un affidamento a chi può rispondere all'attesa di bene che sentiamo in questo contesto così difficile, così confuso, così contrastato, così contraddittorio. Perciò neanche l'attesa di una devozione pur giusta, ma l'attesa di una domanda. la Vergine Santissima, la Vergine, cosa mi chiede? Che cosa attendo da questi giorni? Ha qualcosa a che fare con la vita? È questo che ci sono io in gioco? Perché se no si può ridurre tutto a tradizione e folklore. E questo non è quello che io mi aspetto. Bisogna di vivere. E gli appuntamenti religiosi che possono aiutare in questa domanda quali saranno? Gli appuntamenti religiosi sono quelli che tradizionalmente vengono effettuati, chiedendo alla Madonna che ci renda testimoni buoni e belli della convenienza, della corrispondenza di Cristo al cuore dell'uomo. Perciò chiediamo soprattutto questo per noi che siamo chiamati in prima persona, perché non siamo solo noi sacerdoti, ma di tutto il popolo di Dio è chiamato in prima persona a vivere questi eventi, questi momenti, mettendo in gioco se stessi e fidandosi alle cure della nostra mamma, perché tutto quello che vivremo in questo tempo porti con sé una domanda di cambiamento e di conversione, che poi è il tema della parte iniziale del manifesto che il Vescovo ha scritto per invitare a queste celebrazioni. A parte le celebrazioni che sono quelle solite, sottolineerei la partecipazione di movimenti, associazioni, comunità religiose attraverso la preghiera mariana. Questo vale per la novena, per tutte le sere della novena. Per tutte le sere della novena. È importante perché per me il valore di questa cosa è certamente l'espressione di fede delle realtà ecclesiali nei confronti della Madonna, perché la Madonna è splendida, ci abbraccia come una mamma. Ma anche per il fatto che questo permette un riconoscimento comune di una unità che è data dal fatto di essere tutti battezzati e perciò chiamati a essere testimoni di Cristo nel mondo. La novità è la presenza il domenica 3 luglio alle ore 18 di Sua Eccellenza Monsignor Corrado Sanguinetti celebrerà il pontificale e la sua presenza alla processione con l'arca della Madonna alle ore 21. La Chiesa di Chiavari riabbraccia un suo figlio? La Chiesa di Chiavari riabbraccia un suo figlio, il quale volentieri torna, anche perché c'è i genitori qua, come sappiamo, e volentieri accompagna la Madonna dell'Orto e comunque è stata la sua protettrice e continua ad esserlo per due anni qua all'antuale di Nostra Signora dell'Orto. Per la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto sono incominciati dei lavori che interessano quale parte? Interessano il Pronao, lato sud, dove c'è anche l'ingresso da cattedrale nel corridoio dove viene posizionato un ponteggio con un ascensore, montacarichi, che interverrà nella parte del tetto del Pronao che deve essere rimessa a posto. Che cosa più precisamente deve essere fatto? Perché deve essere rimesso a posto il Pronao? Perché abbiamo visto un avvallamento del tetto con sconnessione di tegole e interventi di fattori legati agli animali, uccelli e quant'altro e soprattutto perché dobbiamo rimettere, rinforzare le travi che sostengono tutto il tetto. vanno rinforzate perché abbiamo visto che soprattutto l'ingresso dell'acqua nelle piogge di questi anni ha indebolito la forza di travi che vanno anche un po' sovradimensionate. Sul tetto del Pronao era già stato fatto un intervento qualche anno fa, quindi adesso perché è necessario ritornarci? Eh, è necessario ritornarci perché, come dicevo, queste travi devono sostenere qualche cosa che in questo momento sostengono non pienamente, è per quello che si crea questo avvallamento e noi dovremmo intervenire per cercare di porre rimedio a questa situazione. Quanto costerà questo intervento? Che grossomodo diciamo che dovrebbe esserci una spesa che si aggira intorno ai 100.000 euro. Quali tempi sono previsti? I tempi previsti sono, così mi ha detto il direttore dei lavori che ha fatto il progetto, eccetera, eccetera, due mesi. Quindi l'abbiamo dovuti fare adesso perché a luglio, agosto poi ci sono le ferie, sono le ditte che chiudono il materiale, edilizie, eccetera, quant'altro. E quindi fino a settembre, a volte anche inoltrato, non si può riprendere. E allora, a settembre c'è il problema, cominciano male le piogge, che col tempo che fa non riesciamo a capire da che parte giriamo, e quindi abbiamo dovuto anticipare, far prima il nostro intervento, cioè cercando di terminarlo prima dell'inizio delle ferie. La ditta incaricata qual è? La ditta incaricata è la ditta Aurora, suggerita dallo studio Gio Miaschi, che sta facendo un bel lavoro perché in due giorni ha fatto un intervento che mi ha lasciato sorpreso. Insomma, ecco, quindi lo studio Miaschi, diciamo, con l'architetto, e la ditta Aurora, che è quella che fa gli interventi di mano d'opera sul posto. A Rapallo è iniziato il tempo di preparazione alla solennità patronale di Nostra Signora di Montallegro. Al Santuario Mariano, sopra Rapallo, ogni mattina alle 5, la celebrazione della Messa, che potete seguire in diretta TV su Telepace 1 al Canale 15. Nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, ogni sera alle 18, la Santa Messa con la predicazione di padre Attilio Franco Fabris. Quest'anno saranno le ultime feste di luglio, celebrate da Monsignor Lelio Roveta, che per 12 anni è stato parroco della comunità rapallese. Rapallo si prepara a celebrare la patrona. La novena avrà inizio giovedì 23 giugno a Montallegro. Ogni mattina alle 3.30 sarà aperto il Santuario, alle 4.20 la recita del Rosario, alle 5 la Messa. Quest'anno Telepace trasmetterà la Santa Messa ogni mattina in diretta. A Rapallo, nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, ogni sera alle 18, la celebrazione della Messa con la predicazione di padre Attilio Fabris. Domenica 26 giugno la Messa delle 18 sarà celebrata dal Rettore del Santuario, Don Salvatore Orani. Dopodiché si entrerà nel vivo delle celebrazioni, con l'incoronazione della statua di Maria, l'offerta dei fiori da parte dei bambini, la memoria dell'apparizione il 2 luglio e la solenne processione il 3. Intanto durante la novena viene messa la Madonna in cassa, in modo che la gente possa cominciare a pregare, a guardare l'immagine. E poi l'uno c'è la Messa del mattino, anzitutto c'è appunto la solennità dell'incoronazione a Madonna definitivamente in cassa, messa proprio, come dire, tutto preparato, poi viene messa presente le autorità civili, il nostro Vescovo, viene lui alle 8. Alle 8.15 c'è la Messa del nostro Vescovo, solenne, e poi viviamo quel giorno con gli appuntamenti tradizionali, i bambini che offrono i fiori, confessioni naturalmente, i primi vespiti della festa. E il 2, poi c'è la festa, come dire, solenne, con la presenza del nostro Vescovo alle ore 10, il Pontificale, e al pomeriggio il rettore di Montalegro alle 18. E poi l'ultimo giorno, il 3, abbiamo la presenza di Don Corrado, di Monsignor Corrado Sanguinetti, che alle 10 celebra la Messa, con la presenza, come dire, di chi può essere, di noi sacerdoti, così. Il Vescovo, intorno a lui, si raccolgono i paroci della città, invece, e quest'anno invito anche i sacerdoti nativi di Chià, nativi di Rappallo, perché la domenica non potranno essere presenti alla Messa che tradizionalmente li vedeva riuniti. Voglio dire che però, al di là di queste date, l'importante è proprio il senso di profonda gioia e gratitudine che ci prende il cuore, perché ricordiamo un avvenimento che, dal punto di vista storico, è molto lontano, 1557. Può sembrare, quindi, un ricordo di qualcosa che ormai è passato, che si fa perché si deve fare. Invece, vi posso dire che è la celebrazione di qualcosa che è presente. Io vedo, parlando con le persone, dalla esperienza piccola che ho avuto, come veramente la Madonna del Montalegro è qualcosa di presente nel cuore delle persone ed ha dei segni della sua presenza, per cui non se ne parla mai molto, però ci sono queste realtà spirituali o anche proprio di guarigioni di cui le persone si sentono custodite e protette. E quindi la festa ha senso per questo, diciamo. Per Monsignor Lelio Roveta, che presiderà la celebrazione della Messa alle 18 del 3 luglio e la processione alla sera, saranno le ultime feste di luglio celebrate nella parrocchia che ha guidato per 12 anni e che lascerà proprio dopo i festeggiamenti. C'è un po' di tristezza, come dire, un po' di malinconia, naturalmente, no? Anche perché mentalmente sto già preparando il dopo, diciamo, quello che dovrò fare qui alla casa del clero di Chiamari. E quindi non sarà piena gioia, è di fede, è una cosa di fede. Cioè ringrazio la Madonna per aver potuto essere in questi anni, essere a servizio e sono certo che non mi mancherà l'aiuto negli anni successivi. La parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio è la più popolosa della diocesi. Può contare su molti collaboratori e su dieci gruppi di spiritualità diverse. Accoglie molti turisti e tante persone straniere, essendo Rapallo la città più multietnica del territorio. Ma il dato più evidente è il riferimento costante e preciso a Maria, patrona della città. Ma è una guida molto articolata, con delle radici lontane, in cui si avverte la presenza di sacerdoti che hanno operato, alcuni ci hanno lasciato, alcuni sono ancora viventi. Abbiamo in parrocchia una decina di gruppi, di persone, di gruppi cristiani, cioè come dire, che vivono spiritualità diverse, pur essendo unite nella parrocchia. E poi abbiamo questa presenza di persone che vengono, magari per il fine settimana o anche per più tempo. Io incontro spesso persone di Milano che mi dicono io sono una sua parrocchiana. Dico, ma veramente lei mi dice sì, ma io vengo qua, sono qui allora, anche perché la Basilica è dedicata ai Santi Gervasio e Protasio. Quindi insomma c'è un riferimento forte, anche storico, perché per circa 80 anni, al tempo dei Longobardi, i Vescovi di Milano avevano riferimento a Rapallo. E poi ci sono molti stranieri, cioè forse è la città più multietnica, penso. Si vede subito, si vedono le fersere, la fisionomia, poi si sentono lì in linguaggio, diciamo, si vedono questa presenza molto forte e molti di loro vengono in chiesa, sono cattolici. Cioè abbiamo presenze ucraine, presenze delle Filippine, presenze di africani, polacchi, insomma, sono una cosa molto bella. Ecco, un ultimo riferimento a Maria, alle grazie che lei diceva vengono riservate molto spesso agli abitanti di Rapallo. Come custodisce tutta questa memoria, tutta questa ricchezza che ha potuto testimoniare in questi anni? Ma io ho conosciuto solo in parte. Ecco, qui c'è anche il rettore di Montalegro, che senz'altro ha riferimenti, anche perché Don Salvatore sono più anni che è Rapallo, perché prima è stato collaboratore dei parroci e adesso è rettore. Io mi accorgo che il discorso del sopranaturale esiste, cioè nonostante quello che alcuni pensano, che siano fantasie, che siano emozioni, che lo so. Ci sarà anche questo aspetto, senz'altro, certe volte, ma però ti accorgi, proprio perché uno non ne parla normalmente, ti accorgi che c'è qualcosa che è avvenuto e che continua a portare nella città la presenza, la benedizione di 500 anni fa e quindi questa è una cosa importante da tenere dentro il cuore. E come abbiamo detto ogni mattina alle 5, la novena dell'alba al Santuario Mariano di Nostra Signora di Montalegro, come sempre, molto seguita e partecipata. Il Santuario in realtà viene aperto già alle 3.30 del mattino, alle 4.20 la recita del Rosario, alle 5, come abbiamo detto, la Santa Messa. L'omelia ogni giorno viene tenuta dal Rettore del Santuario, Don Salvatore Orani. Il tema di riflessione quest'anno riguarda Maria e le donne nella Bibbia, porta della misericordia di Dio. Ogni mattina, abbiamo detto, la Santa Messa delle 5 viene trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Da Rapallo andiamo in Val Graveglia, nella parrocchia di Santa Maria di Nè, dove si è svolta una semplice cerimonia per la benedizione delle nuove campane, che sono state poste poi sul campanile della chiesa parrocchiale. L'anno Domini 2016, Giubileo straordinario della misericordia, rifusione delle 4 campane maggiori ad opera della ditta Trebino Zepponi. Dopo questi mesi di silenzio, la comunità parrocchiale di Santa Maria di Nè festeggia oggi la benedizione delle campane rifuse. Il silenzio, perché poi le campane, le abbiamo detto durante la Messa, sono la voce di Dio, quindi che ci richiamano un po' la voce del Signore, che è presente non solo la domenica nell'Eucaristia, ma nella nostra vita di tutti i giorni, quindi risentire un po' la loro voce è il richiamo per ciascuno di noi al fatto che Dio è presente nella nostra vita. Soprattutto le campane, poi come qui a Ne arrivano un po' in tutte le case, sono attese in tutte le case, il fatto che il Signore è proprio presente lì dove noi viviamo. Che cosa rappresenta questo momento? È un momento bellissimo per la nostra parrocchia, perché dopo tanti anni, con dei problemi che avevano queste campane, abbiamo fatto uno sforzo non da poco e siamo riusciti finalmente a portare le campane come erano una volta, come avevano fatto i nostri vecchi e penso che sia una soddisfazione per tutto il paese, per tutti i parrocchiani e speriamo che resistano più a lungo possibile. Siamo andati a vedere quando l'hanno rifuse, è stata una bellissima giornata, è stata una bellissima esperienza e speriamo che vadano avanti bene. La sera di San Giovanni le campane saranno state messe a dimora e alle 18 ci sarà un concerto da parte dell'Associazione Campanari della Liguria che verranno qua come delegazione per provarle. Suonate campane, suonate, 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 chiamate le doni al Signor Suonate campane, suonate, suonate, chiamate le doni al Signor Prima di chiudere vediamo gli appuntamenti religiosi in programma nelle comunità parrocchiali del nostro territorio per questo fine settimana. Iniziamo dalla piccola frazione di Terisso in Val Graveglia dove sabato pomeriggio sarà celebrata la festa di San Giovanni Battista, titolare della cappella che sorge nel paese. Il programma quest'anno è speciale perché la festa sarà l'occasione per inaugurare i restauri del campanile della piccola chiesa. Il Vescovo arriverà sul piazzale attorno alle 17.30 Ci sarà la benedizione del campanile appena restaurato dopodiché inizierà la Santa Messa e seguirà una breve processione. In occasione sempre della festa di San Giovanni Battista siamo sempre in Val Graveglia nella parrocchia di Santa Maria di Ne sabato pomeriggio alle 19 sarà celebrata la Santa Messa seguirà la rappresentazione di una commedia dialettale sul piazzale della chiesa. La parrocchia di San Paolo in Pila a Sestri Levante si prepara a celebrare la festa patronale in onore della Madonna delle Grazie e la solennità di San Paolo. Sabato alle 18 la Santa Messa sarà presieduta da Don Federico Picchetto parroco di Santa Margherita di Fossa Lupara e missionario della misericordia. Alle 21 rappresentazione teatrale sul piazzale della chiesa. Domenica 26 giugno alle 10.30 la Santa Messa solenne sarà presieduta dal Vescovo Diocesano. In serata alle 20.30 il canto del Vespro presieduto da Monsignor Gero Marino vicario generale della Diocesi di Chiavari qui seguirà la processione per le vie della parrocchia. Mercoledì 29 giugno solennità di San Paolo alle 20.45 la Santa Messa presieduta da Don Mauro Gandolfo. La parrocchia di San Giovanni Battista a Semorile nel comune di Zoagli celebra domenica la solennità patronale. Alle 19 la Santa Messa seguirà la processione l'adorazione e la benedizione eucaristica al termine rinfresco sul sagrato della chiesa. Nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo è iniziata la preparazione alla festa patronale. Il prologo saranno le tre serate di musica e gastronomia da venerdì a domenica con stand gastronomici e serate danzanti. Mercoledì 29 giugno solennità dei Santi Pietro e Paolo alle 10.30 la Santa Messa celebrata dal parroco Don Giuseppe Culoma alle 20.30 la Messa celebrata da Don Stefano Libini e a seguire la processione. In occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo tradizionale festa nel rione Scogli a Chiavari domenica 26 giugno alle 9 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo proprio in piazza Gaglialdro la celebre piazzetta dei pescatori. Due comunità in festa due sacerdoti due amici mercoledì 29 giugno nella chiesa di Nostra Signora del Ponte a Lavagna il Vescovo Dio Cesano celebrerà il Vespro e la Messa per i 25 anni di sacerdozio di Don Gianluca Trovato e Don Stefano Giupponi. L'appuntamento è alle 17.30 e seguirà la cena. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noe Chiesa al nostro viaggio alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della Diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana.